... Senta l'unica domanda. E bene risposto. URA! 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 Prima di tutto un ringraziamento a tutti i candidati e a tutti quelli che ci hanno aiutato e supportato in questi due mesi veramente intensissimi. Un saluto a Pietro che è stato un avversario reale, onesto, ci siamo confrontati sui contenuti e credo che sarà un bellissimo confronto anche in consiglio comunale. Sono veramente molto felice e speriamo di iniziare a lavorare presto perché c'è molto da fare e difficile viene adesso. Qualche idea sulla Giunta? Siete fantastici, almeno ne possiamo riparlare domani che sono un po' stanchino. L'idea sulla Giunta ci sono, però adesso non te le posso dire. Mi dispiace. Sarai la prima a saperlo. Ovviamente dispiace, però per me è stata comunque una giornata di democrazia. I cittadini di Monticelli hanno scelto, hanno scelto di cambiare, di votare la lista decime distante. Io accetto il verdetto. Vorrei richiamare un po' tutti alla, diciamo così, la critica politica perché negli ultimi tempi della campagna elettorale, nei miei confronti sono anche girate delle accuse diffamatorie per le quali necessariamente e malvolentieri ho dovuto presentare anche querela alla Procura della Repubblica. Spero che tutto orienti nella normalità della critica politica e non travalichi invece nella diffamazione della vita personale delle persone. Quindi un richiamo tutti al rispetto delle regole della convivenza e della vivere civile.